Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, gol, spettacolo e tante polemiche all'Ethiad tra Manchester City e Totem. Alla fine è 2-2 polemiche, un gol annullato in pieno recupero ai Citizens come lo scorso 17 aprile, il quarto di finale di ritorno di Champions League. Allora fu annullato il gol a Sterling che poteva regalare la qualificazione verso la semifinale di Champions League. Invece quest'oggi il gol annullato che poteva valere la vittoria per i Citizens, l'aggancio in vetta a Liverpool e Arsenal in Premier League. Niente da fare, è 2-2 all'Ethiad, gol spettacolare di Gabriel Jesus al 92esimo annullato per un tocco, sospetto di mano di Laporte durante il corso dell'azione. Un tocco, dico sospetto perché è veramente molto molto difficile da vedere, questo tocco di mano in queste azioni. Il bar ha giudicato questo, l'arbitro Oliver lo ha decretato e quindi rimane il fatto che la partita sia finita in palità. 2-2, tanti gol, 4 per l'esattezza e tanto spettacolo nel big match della seconda giornata di Premier League. Un City che però meritava ampiamente la vittoria quest'oggi per quello che ha creato, per le azioni che ha sviluppato e anche per quello che è stata la trama del match nel corso dei 90 minuti. City in vantaggio dopo 20 minuti grazie al colpo di testa sul secondo palo di Sterling. Sterling veramente un giocatore pazzesco, cross 1-2 tra Bernardo Silva e l'assistman De Bruyne. Un cross perfetto per l'ex Wolfsburg, colpo di testa micidiale di Sterling che batte Lloris alla 300esima partita a presenza con gli Spurs in Premier League. Trecentesima partita però bagnata subito da un errore perché rimane immobile il portiere campione del mondo con la Francia in Russia 2018. Colpo di testa micidiale 1-0 per il City, firmato Sterling. È una City che però spreca subito il vantaggio al ventesimo perché passano tre giri d'orologio e gli Spurs alla prima azione pericolosa pareggiano con il Cocco Lamela. È un sinistro a giro micidiale, bellissimo il gol di Lamela però troppo spazio lasciato sia da Laporte che sbaglia sicuramente il tempo dell'intervento sull'azione di Lamela e anche errore, secondo il mio punto di vista, di Ederson che è posizionato malissimo all'interno della porta. 1-1 firmato dall'ex attaccante della Roma. Il Cocco Lamela punge il City aletiato. 1-1 al ventitresimo. Ma è un monologo del Manchester City, dei Citizens nel corso del primo tempo. Altra azione pericolosa con Aguero che prima sfiora il gol del 2-1 e poi al 35esimo. Batte Pioris per la seconda volta per il nuovo vantaggio dei Citizens. Altro 1-2 firmato. Bernaldo Silva da una parte, De Bruyne dall'altra. Cross micidiale della Belga. È una rasoiata, un colpo letale per Aguero che fissa il punto sul 2-1 per i Citizens. e che anche hanno l'occasione con Gundogan di firmare il terzo gol. Finisce il 2-1 al primo tempo un monologo, come abbiamo già detto in precedenza, per il City di Guardiola che merita ampiamente il vantaggio nei primi 45 minuti. Nella ripresa inizia benissimo la squadra di Pep Guardiola con un sinistro da fuori di Zinchenko dove Lloris in due tempi riesce a prenderla. È un Tottenham che non riesce a creare azioni pericolose. Cosa fa Pocetino? Fa il cambio che decide la partita, anzi la stravolge perché al 56 esimo esce una deludente Wings. Secondo il mio punto di vista entra l'eroe di Amsterdam che ci mette appena 30 secondi per timbrare il cartellino. Colpo di testa perfetto sull'angolo del Coccolamela. Colpo di testa perfetto di Lucas Moura ed è 2-2 al 56 esimo. Da questo momento in poi il City attacca in continuazione. Ha una grande occasione con Rodrigo pagato 70 milioni in estate dall'Atletico Madrid dove Lloris però risponde presente e poi ha anche delle occasioni con, e l'appena entrato, Gabriel Jesus. Adesso parliamo di una questione che si è formata all'interno della partita. Il cambio al 65 esimo esce la Cunaghero e entra Gabriel Jesus. Polemica dell'argentino con Guardiola. Poi Gabriel Jesus porta in vantaggio il City al 92 esimo e le telecamere inquadrano un abbraccio bellissimo tra Guardiola e il Cunaghero. Poi il gol annullato però rimane l'abbraccio, rimane il gesto tra il tecnico spagnolo e l'attaccante argentino. Una finale in cui la partita perde anche di intensità perché la pareggio è un risultato pazzesco per gli Spurs per quello che si è visto oggi a Letiago. Una partita dominata, pensate un po'. 12 calci d'angolo a 2 per i Citizens contro un Tottenham sicuramente che ha avuto un atteggiamento difensivista ma che alla fine ha premiato per quello che è stato oggi il risultato. 2 a 2 in casa del Manchester City campione d'Inghilterra che si ferma a 15 vittorie consecutive se contiamo anche lo scorso campionato. Io vi ringrazio per fare attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.